Dante Marrocco. L'antica, Alife. Piedimonte d'Alife 1951. Questa città antichissima, non ignota agli studiosi di storia, è tuttavia sconosciuta ai non specialisti della materia. Pure il ricordo di essa costituisce alcunché di interessante dal punto di vista archeologico e storico. Perché in Alife la vita economica e sociale, l'organizzazione amministrativa e religiosa. Gli stessi avvenimenti politici e militari furono tali che, se non hanno straordinaria importanza, possono però giovare ad una migliore conoscenza e più precisa ricostruzione della vita di allora, in quanto superano l'interesse locale e si collegano alla vita dello sterminato impero romano. Introduzione. Quando ha avuto origine Alife? I più antichi ritrovati archeologici non passano il V o il VI secolo a.C. Già esisteva e ferveva essa dunque nel Sannio Pentro. Prima che le aquile romane vi si avanzassero, quale popolo la fondò? Il materiale più antico è prodotto osco sabellico, ma Alife, nella pianura, è greca. Faccio mia l'ipotesi avanzata dal Nissen e dal Vondan, e che il Maiuri ha poi accertato definitivamente, che cioè l'Alife sannitica e osca non era nel luogo attuale. Sempre lo stesso da venticinque secoli, ma sui monti vicini e propriamente sul Cila. Questa popolazione alifana della collina. Una volta discesa nella fertile pianura aveva trovato nell'agricoltura un'occupazione che, di fronte alle pastorizia di prima, offriva un ben diverso reddito economico. E, come sempre accade, dopo il pane del corpo si era desiderato quello dello spirito. Ed allora il rozzo borgo sannitico si era aperto al soffio elevante della civiltà ellenica che si diffondeva dalla vicina campagna. La nuova posizione aveva pure grandemente influito a operare questa trasformazione poiché la montagna isola, la pianura unisce e confonde. Poi erano venuti i Romani e Alife, sannitica di sangue se non più di mentalità, con la sua posizione strategica di avanguardia del sannio, con le sue possibilità economiche, con la sua ubicazione che le faceva controllare una vasta zona, conobbe gli orrori della guerra, assedi, assalti e distruzioni. Gaio Marcio Rutilo, console di Roma e Ponzio Telesino, duce sannitico, si accanirono nella lotta per possederla. Finché nel 307 a.C. il proconsole Fabio la assicurava a Roma, municipio senza suffragio, con Roma rinacque, e si sviluppò economicamente, facendosi notare per la qualità e la quantità del prodotto sul mercato agricolo e industriale d'Italia. Romanizzata ormai anche nel sangue, vi era stata dedotta una colonia, divenuta popoloso e grasso municipio, si ornò di templi, teatri, mausolei e acquedotti. Mentre i ponzii curavano le lettere, gli appulei e gli acili glabrioni vi fecero sentire la nota del mecenatismo e della grande politica. L'abbondanza della produzione le fece avere tale forza finanziaria che gli imperatori le concessero una zecca, come già l'aveva avuta quando era uscita dalla preistoria. Poi venne la decadenza, i barbari invasero l'impero uccidendo e distruggendo, e Alife seguì la parabola discendente di Roma scomparendo nel silenzio del basso medioevo. Qui si ferma il mio lavoro. Ho dato in sintesi la trattazione che, nelle pagine seguenti si svolgerà analiticamente fra le citazioni e le indagini. Alife e il suo territorio, ad eccezione di Plinio e di Grutero che assegnano Alife alla Campania, e dell'Ughelli che l'assegna all'Irpinia, Diodoro Siculo, Strabone, Tolomeo, l'itinerario di Antonino, la carta peutingeriana, e, fra i moderni, il Monsen, la pongono nel sannio. La sua appartenenza a questa regione è ormai assodata e non è il caso di occuparsene ancora. La città giace in una vasta pianura, a sinistra del Volturno, dal quale è poco lontana, e propriamente nell'estremo limite meridionale del Matese, vicino a piedi Monte d'Alife. Il suo territorio, tenuto in grande considerazione da Cicerone, si estendeva nell'antichità, a nord-ovest fino all'attuale paese di Lettino, ad est fino al villaggio di Calvisi di Gioia Sannitica, a nord fino al lago del Matese e a sud-est verso la Valle Telesina. Lo trovo così delimitato anche durante il Regno Longobardo, allorché fu costituito in distretto giudiziario gastaldato, cui era preposto un gastaldo, che nel tempo stesso era giudice, ufficiale politico e comandante militare. Divenne poi contea quando l'influenza franca si fece sentire anche nel Ducato di Benevento, che pure si era salvato dalla catastrofe del Regno Longobardo. In tale distretto il vescovo della città estendeva la giurisdizione ecclesiastica, rimasta, attraverso i secoli, sempre inalterata fino ai nostri tempi. Da un placito di Pandolfo Capodiferro dell'anno 791 e da un diploma del principe Landolfo del 978, come da scritture del 1020 e da un placito di Capua del 1033, si raccoglie che la duplice circoscrizione territoriale alifana, del gastaldato e della diocesi. Si estendeva appunto fino ai limiti accennati. La città era situata sulla via latina che congiungeva, passando per Telesia, Beneventum av Benafrom, ed era punto di partenza per l'altra che menava Ateanum e Aminturne. Il nome della città, negli antichi scrittori alife, si trova indicata ora in Alifai, Diodoro Siculo, e Alifai, Strabone, ed ora in Alifa, Tolomeo. Nelle monete è detta Alifa e nelle lapidi rimane costantemente Alife. Periodo delle origini e i primi abitatori di Alife. Come di tutte le città antiche le origini di Alife sono avvolte nel mito e nella leggenda. Si favoleggia che Ercole dopo aver vinto Caco, l'avrebbe fondata nei pressi del Volturno, o che, già esistente, egli non fece che impadronirsene. Si narra pure che la città sarebbe stata fondata invece da Diomede o da un suo compagno al ritorno dalla guerra troiana, e infine è sottoposta alla dominazione greca cioè a quella dei lacedemoni tarantini. Comunque, Alife è una delle città più antiche del Sannio Pentro e le leggende mitologiche ed eroiche che la riguardano. Lungi dall'esprimere qualche cosa di storico sono però connesse alla sua storia, perché servono, se non altro, a dimostrare le origini effettivamente remote di Alife. La preistoria nell'Alifano. I documenti indicati, relativi all'alta antichità dell'Alifano, quasi tutti rinvenuti sul Monte Cila che sovrasta Piedimonte d'Alife. Attestano che l'aspro contraforte fu abitato nella zona prima che altrove. Questi oggetti vennero in luce sporadicamente e a mano a mano conservati nel Museo Alifano di Piedimonte. Le murazioni poligonali del Cila. Proprio su questo monte si trovano scaglionate delle grandiose murazioni poligonali. Esse furono già viste d'altrutta ma non classificate come opere pre-romane. Per cui non destarono mai quell'attenzione che si ebbe invece dopo che il Marrocco ne parlò stabilendone il carattere che rivela in effetti lo stile cosiddetto ciclopico dei primitivi popoli italici. Il Monte Cila, dalla forma di piramide tronca, rappresentava un punto di osservazione per vigilare la pianura alifana, e costituiva anche una formidabile difesa per queste sue opere murarie, senza le quali esso sarebbe stato aperto a possibili incursioni o d'assalti dal lato meridionale che guarda il piano. Il Monte Cila rappresentava un punto di osservazione per vigilare la pianura alifana e costituiva anche una formidabile difesa. Su queste opere murarie si accampò Quinto Fabio Massimo nell'anno 221 a.C. per osservare le azioni di Annibale che si era accampato nella piana alifana. Infatti la posizione centrale e frontale di sbarramento che viene ad avere il Cila nel massiccio montano del Matese verso la valle del Volturno. Ne fece fin da tempo antichissimo un centro di abitazione e un posto di vedetta e di difesa delle popolazioni ssabelliche che dall'altopiano del Matese, ricco di boschi, di acque e di pascoli, traevano gli elementi essenziali di vita con la periodica emigrazione estiva degli armenti. Le condizioni eccezionalmente favorevoli che presenta il Matese nel suo versante meridionale. Con il suo grande altopiano, ricco di pascoli, doveva farne un geloso possesso in mano alle tribù ssabelliche che per prime vi si stanziarono, ed una ragione di predominio da difendere e custodire contro le temute invasioni di popolazioni della vicina campagna che, per la stretta di Cagliazzo, potevano agevolmente giungere nella più interna vallata del Volturno. I circuiti sono tre. Uno alle falde, oggi in cattivo stato di conservazione lungo in origine circa 1500 metri, in duplice cinta. Il secondo circuito verso la metà del monte, anch'esso in duplice cinta. Il terzo, formato da unico muro, molto al di sopra della carrozzabile 76. In totale, le cinque cinte, avevano una lunghezza di quasi 7 chilometri. La struttura è di tipo primitivo, ben lontana dalla tecnica del poligonale progredito che si trova nelle cinte murali delle città laziali. I blocchi sono di media grandezza, rozamente tagliati nella faccia esterna, senza piani squadrati ma poggiati sulle rocce e gli interstizi sono riempiti di pietrame minuto. Le loro dimensioni variano dall'uno all'altro blocco e i massi sono differentemente usati a tutte le altezze. Alife sannitica ed influenza greca nell'alifano. Ho accennato alla popolazione di stirpe sabellica sul Cila, alle murazioni poligonali e ai principali manufatti larinvenuti. Ma non ho detto che sul quel monte, come era facile intuire, si ergeva l'alife sannitica. Un profondo conoscitore delle antichità alifane, Amedeo Maiuri, è stato il primo a proclamarlo con sicurezza ed io senz'altro aderisco alla sua tesi. In caso contrario non saprei a quale villaggio o città attribuire gli avanzi monumentali e il materiale rinvenuto sul monte, ove è accertato che un agglomerato di individui è vissuto per secoli, ed anche perché non sia notizia che, oltre alife, vi sia stata intro il territorio altra città antica. Il Nissen fu anche egli dell'opinione che alife sannitica si trovasse sui monti sovrastanti piedi monte, ma la indicò presso l'attuale paese di Castello d'Alife, a destra del Cila. Vi si oppose il bondan senza però decisivi argomenti, per cui la tesi del Maiuri ha finito per trionfare. Trovando fondamento nei fatti, ora è chiaro che gli uomini del Cila, allorché la vita lassù cominciò a rendersi disagevole, inadeguata e poco adatta ai cresciuti bisogni. Per aumento di popolazione, per esigenze economiche e per vicende sociali e politiche, scesero nel piano e fondarono una città murata, la quale logicamente assunse la denominazione etnica del gruppo di abitanti in essa raccolti. Ora, siccome le indagini compiute sulla cronologia delle due necropoli alifane poste verso il piano, hanno dato per risultato che le più antiche tombe risalgono al V secolo a.C., non è azzardato affermare che a tale epoca rimonti la fondazione del centro murato. Il materiale archeologico trovato, anche se alquanto scarso, rivela elementi culturali che dimostrano in parte l'evoluzione della città. Questi elementi appartengono però ad un'epoca più tarda, al tempo cioè della penetrazione della civiltà greca che gli alifani accolsero con grande favore. Oltre alle leggende di cui ho fatto cenno, una prova incontrastata dell'influenza greca sia nella monetazione, cioè nel didramma della città, che porta la testa di palla degaleata e nel retro il toro androprosopo con la leggenda alifa. È questo un documento importantissimo che, come dice il paese, dimostra fino a qual punto gli alifani divenissero sensibili alla civiltà greca che si diffuse da Napoli, e dimostra pure che con Napoli essi mantenevano rapporti commerciali. La sua data è del IV secolo avanti Cristo e sta a rivelarci come alife fosse già assurta in tale epoca città importante fra le altre del Sannio Pentro e che aveva raggiunto una posizione importante nelle vicende politiche della stessa campagna.